Non è mai bello perdere una partita, una sconfitta fa sempre male, soprattutto un derby, però è già il passato e dobbiamo pensare alla prossima, alzare la testa e fare tutto per essere pronto per quella partita. Abbiamo già giocato insieme, anche se era in un altro modo con tre difensori, però secondo me siamo forti tutti i quattro difensori centrali, quindi possiamo giocare insieme tutti perché è importante che tutto sia chiaro cosa dobbiamo fare. Secondo me lui ha fatto vedere che capisce cosa deve succedere e ha fatto benissimo, quindi sì, possiamo giocare insieme. Ora mi sto concentrando sul lavoro, sul calcio perché l'anno scorso sono stato fuori per quasi tutto l'anno e ora ho appena giocato otto partite. Voglio solo giocare perché pure in questo periodo mi è mancato il campo e giocare, quindi sono contento di essere tornato e essere disponibile e poi il futuro vediamo. Mi è piaciuto tanto la squadra in questo periodo quando stavo fuori, normalmente preferisco giocare, non solo per giocare ma pure per l'attenzione perché guardando le partite mi sento ancora più in tensione, ma in questo periodo sono stato tranquillo perché ho sempre avuto l'idea che vinceremo le partite come l'abbiamo fatto. Poi ci pensiamo a sabato perché è una partita difficile con Sampdoria, però abbiamo voglia di vincere, secondo me torneremo a vincere lì. Vogliamo tornare in Europa come l'anno scorso, secondo me siamo sulla strada giusta, stiamo facendo bene, ma sappiamo che arrivano partite importanti in questo periodo contro squadre difficili, quindi dobbiamo essere preparati per questa partita.